Buongiorno e ben trovati da Scandal, ci eravamo lasciati al salvataggio al telefono dell'emergency l'ultima volta. Scappa dal server centrale. Riccardo, come hai fatto a riaprirla? Ho dovuto bloccare l'allarme, era l'unico modo per far uscire Ripley. L'hai fatto uscire? L'avevamo chiuso dentro e l'hai fatto uscire! È ancora dietro di te Ripley. Dove vado? Ai laboratori Gemini con l'ascensore. Se ti segue, noi trappoliamo lì. Ripley, Riccardo. Non possiamo farlo scappare ancora, è chiaro. D'accordo. Prendi l'ascensore per la Gemini. Ex... Exoplanet Solutions. Ha! La stronzata, insomma. Eccolo. Mi sta pedinando sto maiale. È qui vicino. Oh, cosa vuole questo? La rivoltella? Oi! Attirerai l'alieno così? Eh sì. Qui diventa un bel problema, però. Sti coglioni stanno attirandolo. Porca puttana. Che brutta fine. Dov'è? Un'azione di revolveri, iniettore, ottimo. Dove essere questo l'ascensore? Per i Gemini? Sì, Gemini. Andiamo. Qui si consumerà un bagno di sangue, credo. Mai visti i Gemini? C'è qualcosa che funziona in questa base? Ripristino l'accesso dell'area di distribuzione. Ok. Vediamo. Tanto già lo sento camminare sopra di me. Salviamo, va. Non si sa mai. Allora, bisogna andare di qua. Oh, c'è una signora. Signora? Moriremo qui. Lo sai, vero? Sì. Tu magari, io ci tengo un po' meno. Bella, però. Paisaggio. Straordinario. Poveretta. Aspetta l'inevitabile fine. Nonno che hanno lasciato per i custodi androide è in un magazzino più avanti e ti prego, fai piano. Mico. Ci sono io qua e tu preghi di fare piano. Che stronzo. Dove è? Tra cazzo. Ok. Ah, quindi facevano tipo robe robotiche. Sì. Sì. Stai zitto. Stai zitto. Stai zitto. Che qua già sono in a deep shit. là c'è una telecamera di sicurezza. Mi ha già beccato. Mi ha già beccato. Adesso viene a fare un androide e mi mela. Eccoti, maledetto. mostra. Cazzo. Amore. Chiari. Cazzo. Cazzo. Amore. Grazie a tutti. Mi sembra di essere un contorsionista qua dentro, armadietto più piccolo del mondo, cazzo. Ancora qui sei? Dai pur, diamo un armadietto. Ah, che noia. Ok, è andato. Bastardo. Un alieno curiosone. Uh, cosa c'è qui? Torcia al plasma. Poverino. Cazzo. Spero che non mi veda. Brucia merda. Brucia merda. Ok, togliamo la telecamera di sicurezza che ha già fatto i suoi danni. Dai, presto, presto, presto. Presto, presto, presto. Prima che torni. Minchia. L'ho preso l'ultimo secondo. Che culo. Apriti merda, apriti. L'ho preso l'ultimo secondo. Che cazzo mi vuole. Se va sto link. Salvami tu. Ok, ripristinati. Dove sono i due locali in termina? Dove sono i interruttori in mezzo? Mi vedo uno nei laboratori di analisi, l'altro è nella sala di contaminazione. Buona giornata. Come buona giornata? Saluti l'alieno? Che strozzo. Dai, picchialo. Eccolo lì. Aiuto. Chi è lei? Chi è lei? Ma sei un ritardato. Picchialo. Devo andare fin laggiù. Premi l'interruttore della... Ok, se n'è andato. Ok. Niente, non si può neanche assemblare una cassa acustica. Sono già a capo. Mappe. Very important. Detonatore, ok. Un altro detonatore. Faccio bombe a go-go adesso. Un sebastolink. Non posso resistere. Richiesta di servizio. Cosa me ne faccio di chiamare il custode? Boh. Ah, mi aprirà probabilmente delle porte? Quella roba è già... Carri a big gun. Questo è... È il mio lanciafiamme. Che ormai è già quasi arrivato a metà. Allora, io devo andare... Dove devo andare? Da sotto. Premi l'interruttore del laboratorio. Ok. È un bel polunga. Vabbè, se ne frega. Bocca al lupo. Senti, lo sto bastardo. Sempre qua dietro. Potrei passare a sé. Da questo portello qua. Adesso mi trovo l'alieno dentro. Stai a vedere. No. No. Qua si apre la porticciola. Andiamo. Per la miseria. Cos'è che devo riattivare io qui? Tutto il sistema. Devo riattivare? Interruttore, interruttore. Ok. Adesso salviamo intanto. Ok. Salvatore. Allora. Andiamo un'occhiata su. Come fa a essere qua dentro? Tubo-bomba. Facciamo un tubo-bomba. Tubo-bomba è un dispositivo che esplode all'impatto letale per gli uomini sintetici non industriali nella vicinanza. Ok. Ci liberiamo un po'. Il componente. Così riusciamo. Senti che è vicino. Senti la merda che ci sta. Marcando. Allora. 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 C'è una telecamera di sicurezza. Se questa suona diventa un bel guaio. Perché la disattiviamo adesso? Ok. Disattivata. Maledetto. Prendiamoci le mappe. Qui, qui. Non ci molla un secondo. E' un moroso geloso. Se va sto link salvami tu. Allora. 2, 7, 4, 3. Ok. Ok. Cosa ci sarà mai qua? Un alien che mi sta marcando stretto. Maledetto. Torcia a ioni. Non ce l'ho ancora. Sentirò, sentirò. Eccolo lì, l'interruttore. Ok. Fatto. Uh. Qua c'è sangue. Not good. Not good per lui. Per me invece sì. Raccolto anche il badge. Portalo bloccato. Trova gli interruttori per accedere alla struttura della Gemini. Ok. Ok. Andiamo giù di qua. Ma dove sono finito? Ma sono ancora qui? Il cazzo è tenito di me. È dietro di me. Andiamo via di qui. Presto. Devo andare nell'altra zona io. Dai. Da mie. Da mie. Da mie. Grazie. È un po' baggato questo portello. Non ti dà mai la... Ok. Dovremmo essere vicini. Cazzo qua dietro. Cazzo qua dietro. Rocia. Merda. Fottiti. si è un po più sicuri però ha sempre il suo bel terrore da qualche parte qua vicino ok dovrebbe essere qua vicino cazzo paura eh bastardo adesso che giochiamo ad armi pari però le sto finendo troppo presto cazzo scusate premuto il sinistro ok devo capire dove devo andare devo tornare ok cazzo 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 sto finendo troppo presto il lancia fiamma cazzo 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 Grazie a tutti. Ok, si è tolto dai coglioni finalmente. Bastardo. Che brutta sorpresa. No, anche lui. Dai, fammi entrare, fammi entrare, ti prego, fammi entrare. Ti prego, fammi entrare. Non si preme, fammi entrare. Ti prego, fammi entrare. Sta arrivando, fammi entrare. Ma perché non funziona? Cazzo. Bastardo, ciò che ho baggato. Cazzo, mi fa cagare ad os. Cioè, a parte il fatto che... Non c'era cotta a puntino fra un po' perché... E ho cacciato... Cazzo, cazzo. Ti caverai dei coglioni una volta buona. Ok. Ormai sarà la quinta prova... Allora, la quinta volta che ci provo con quella valigia lì. Mi riesco in me a prendere qui. Ok. Dove sei? Cazzo, lì giù. Bastardo. Cazzo. Cazzo. Salviamo, va. Non si sa mai. Ok, salviamo qui. Anche per questa volta è tutto. Ci vediamo alla prossima. Ciao.